Mi spiace molto davvero per la scomparsa di Pietro Anastasi, mi spiace molto davvero dopo averlo conosciuto in tante trasmissioni, sportivo vero, sportivo di razza, bella persona, tifoso, appassionato, ma vero uomo di sport. Lo ricordo con tenerezza e affetto mentre saliva da Catania con i cannoli siciliani per tutto lo studio. Una bella persona, ha fatto una grande carriera e personalmente ricorderò sempre Pietro Anastasi con grande affetto. È da poco arrivata nella nostra redazione la notizia della scomparsa di Mario Bergamaschi, 91 anni, era il rossonero più anziano in vita, era il nostro decano, il nostro nonno, il nonno dei nostri colori. Lo storico del Milan Luigi Larocca lo ha fotografato con la maglia del Milan indosso nello scorso mese di ottobre e la indossava ancora con grande gioia. Lui era Mario Bergamaschi, era cremasco, lo ricordiamo con grande rispetto, con grande merito. Era il mediano, una volta il mediano negli anni cinquanta era davvero una figura capabia, un mastino. Sugli almanacchi lo definiscono Gregario, non so se sia offensiva o meno questa definizione. Preferisco definirlo Colonna, colonna di quel Milan del Grenoli, il Milan che ha vinto lo scudetto del 1955, il Milan che ha vinto lo scudetto del 1957, ha vinto anche una Coppa Latina nel 1956 e all'epoca era una competizione europea molto importante. Pochi mesi fa ci aveva lasciato a 92 anni Renzo Burini, insomma i nonni iniziano a salutarci ma portano lassù il Milan nel cuore e questo è un punto importante, un punto storico, un punto decisivo. Naturalmente il ricordo di Mario Bergamaschi, il ricordo di Pietro Anastasi ci accompagna all'inizio di un weekend che è comunque di calcio, che è comunque di campo. Il Milan gioca alle 12.30 contro l'Udinese e i tifosi del Milan sono, c'è uno striscione a San Siro, belli come il sole, ecco, non so se ci sarà il sole domani a San Siro, però la bellezza è la bellezza interiore, la bellezza dell'amore, dell'attaccamento ai colori, dell'attaccamento alla maglia e ho fatto un calcolo, numeri malcontati, prendeteli per quello che valgono. Da quando è iniziata questa stagione, compresa Milan Spal di mercoledì scorso in Coppa Italia e compresa Milan Udinese di domani, dovrebbero essere 700.000 le presenze allo stadio in casa per il Milan in questa stagione, nonostante abbiamo vinto solo due partite in campionato e una in Coppa Italia. E quindi affetto a prescindere, amore a prescindere, certo i tifosi si sfogano, certo criticano, a me non piace che si infierisca su Suso, il tifoso ha il diritto di criticare, ha il diritto di dire la sua e la sua opinione è sacra e la sua opinione vale, infierire e massacrare non mi piace, ma non mi piace nei confronti di nessun giocatore di Suso che per noi è stato importante in particolare, ma in generale anche quando accade a giocatori di altre squadre. E spero che questa cosa migliori, però io parlavo prima di 700.000 presenze ed è un numero, ma i tifosi del Milan in questa stagione non sono mai stati un numero, la qualità della presenza di tifosi del Milan alle partite allo stadio è sempre stata enorme, è sempre stata di grande entusiasmo, di grande portata, di grande trascinamento, a volte non siamo riusciti nemmeno in campo a farci trascinare, ma questo è un altro discorso, questo annette alle partite, appartiene al campo, ai momenti di forma, a varie situazioni tecniche, però i tifosi sono sempre e sono fino a questo momento il migliore in campo della stagione. Non a caso appena è sceso dall'aereo Alinate, Zlatan Ibrahimovic ha subito detto voglio tornare a far saltare San Siro, perché anche lui ha in mente San Siro, anche lui ha in mente la nostra folla, la nostra gente, il nostro popolo e quindi si ritiene stretti e attribuisce un grande valore. Per il resto Milan-Udinese, dopo una settimana di mercato, c'è il giallo Dani Olmo, ma ripeto, quella del Milan non è una smentita per il gusto di farla. Il Milan dice che non c'è nulla per evitare che ai tifosi rossoneri di cui ho appena parlato, del loro valore e della loro presenza, non arrivi una notizia che magari fa piacere ai tifosi rossoneri ma che non è vera, non sto discutendo il merito, piacerebbe a tutti avere Dani Olmo, però se non c'è un interesse non è giusto che ai tifosi rossoneri arrivi questo tipo di notizia che più che una notizia rischia di essere un'illusione, per cui la smentita è vera e reale ed è una notizia, non c'è interesse, non è una smentita burocratica, amministrativa, tanto per il gusto di farla. La settimana di mercato particolare, non oso pensare, se un caso come quello di Spinazzola fosse capitato al Milan, non oso pensare che cosa sarebbe accaduto, che cosa si sarebbe detto, che clamore ci sarebbe stato. In ogni caso, buona fortuna a Spinazzola, buona fortuna Napolitano, buona fortuna a Caldaro, buona fortuna a tutti i giocatori che si stanno trasferendo sia in relazione al Milan che al campionato di Serie A in queste ore e in questi giorni. La conferenza stampa di Stefano Pioli inizia alle 13.45, pochi minuti prima saremo in diretta da Milanello per lanciare proprio le dichiarazioni del nostro allenatore su Minantiv Via la Vigilia di Milano Udinese.